Una nave della Lega Anseatica. Nel tardo medioevo, la sua flotta domina il mare. Ne fanno parte tutte le più ricche città del nord Europa. La sua rete commerciale si estende dall'Islanda a Venezia, da Bruges fino alla lontana Russia. Più di 200 città si legano a questa superpotenza economica del tempo. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare per difendere i propri interessi, anche con le armi. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare i proprii interessi. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare i proprii interessi. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare i proprii interessi. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare i proprii interessi. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare i proprii interessi. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare i proprii interessi. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare i proprii interessi. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare i proprii interessi. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare i proprii interessi. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare i proprii interessi. La Lega Anseatica, un impero fondato da mercanti pronti a lottare i proprii interessi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.